Buonasera a tutti, eccoci qui come di consueto ad aggiornarci in merito alla situazione dettata dall'emergenza coronavirus all'interno della nostra comunità. Quest'oggi i concittadini positivi alla covid-19 sono 28, non abbiamo positività nuove rispetto a ieri. Dei concittadini positivi due sono ricoverati in strutture ospedaliere del nostro territorio. A loro va la nostra vicinanza e tutto il nostro supporto in questo momento per loro così delicato. 34 sono i cittadini in quarantena obbligatoria. La bella notizia di quest'oggi è che un nostro concittadino è ufficialmente guarito e di questo ce ne felicitiamo. È stata firmata da parte del Ministro della Salute la nuova ordinanza che proroga per le prossime due settimane la classificazione di Regione Lombardia in zona rossa. Questo significa che le misure restrittive oggi in vigore rimarranno in vigore per le prossime due settimane. Nella settimana entrante i nostri giovani concittadini frequentanti le nostre scuole fino alla prima media riprenderanno l'attività scolastica in presenza. A tutti voi ragazzi i miei migliori auguri di una buona ripresa scolastica. Un pensiero particolare a tutti voi ragazzi a cui invece viene richiesto di proseguire l'attività didattica a distanza. So che questa forma di svolgimento dell'attività scolastica così particolare per tutti voi costa enorme impegno ed enorme sacrificio. Vi voglio ringraziare dal profondo del cuore per la vostra preziosissima collaborazione. Sappiate che siete un esempio per tutti noi adulti per il modo con cui con serietà e con senso di responsabilità vi attenete a quelle che sono le indicazioni che vi vengono date. So che per voi non è assolutamente facile quindi grazie veramente dal profondo del cuore. Una comunicazione di servizio. Nella giornata di lunedì non verrà effettuato il servizio di raccolta dei rifiuti a domicilio. La raccolta a domicilio per la zona 1 normalmente programmata per la giornata di lunedì viene posticipata alla giornata di martedì. Quindi nella giornata di martedì tutto il territorio comunale sarà interessato dalla attività di raccolta a domicilio dei rifiuti. Queste sono giornate di festa per tutti noi. È la Santa Pasqua. Dal profondo del cuore a tutti voi, a tutti i vostri cari, i miei migliori auguri di Pasqua con un invito particolare anche in queste giornate di festa. Non abbassiamo l'attenzione perché purtroppo il Vigus non va in vacanza. Vi auguro buona serata e vi auguro buona domenica di Pasqua.